voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa un caro saluto a tutte le amiche a tutti gli amici che in questo momento ci ascoltano da denise arceri continuiamo i nostri appuntamenti dedicati alla settimana santa insieme a don mario modica bentrovato mario e grazie sempre per essere con noi ciao denise grazie a te ancora una volta per questa opportunità rivolgo un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici il venerdì santo è il primo giorno del tridopasquale in cui si ricorda la passione la morte redentrice di gesù cristo in questo giorno non si celebra l'eucaristia ma solamente l'azione liturgica della passione del signore che è articolata in tre precisi momenti ovvero la liturgia della parola l'adorazione della croce e la comunione con i presentificati iniziere proprio da questo nello spiegare come sono articolati questi tre momenti come dicevi tu il venerdì santo è un giorno particolare perché la chiesa da lunga tradizione non celebra l'eucaristia in questo giorno l'eucaristia è quel banchetto nuziale ma lo sposo in questo giorno è morto non c'è è stato tolto alla chiesa per cui la chiesa non celebra l'eucaristia non celebra il banchetto delle nozze ma si ritrova in assemblea per celebrare e commemorare la passione del signore che come dicevi tu è articolata in questi momenti che hanno inizio proprio nella liturgia della parola che ha come centro ancora una volta la proclamazione della passione secondo l'evangelista giovanni poi segue l'adorazione della croce e infine la comunione eucaristica possiamo parlare di questa passione che noi riviviamo nella liturgia del venerdì santo come una passione che viene proclamata nella liturgia della parola attraverso le letture di saia la lettera agli ebrei e come dicevamo nella passione secondo giovanni una passione venerata attraverso l'adorazione della croce quindi questa contemplazione e infine una passione comunicata attraverso il rito della comunione eucaristica con il pane che è stato consacrato nella celebrazione del giovedì sera del giorno precedente il venerdì santo e celebrazione non di un funerale questo è qualcosa che è stato messo in evidenza soprattutto dopo la riforma liturgica specialmente dopo il vaticano secondo gli stessi paramenti usati dai ministri non sono di colore nero come si usava una volta ma di colore rosso per indicare quel colore della passione e della regalità di cristo un po' legato anche a ciò che abbiamo celebrato nella domenica delle palme tant'è che nella celebrazione della passione la lettura del vangelo di giovanni è una lettura che mette in evidenza sì la morte del signore ma questa morte intesa come glorificazione giovanni vede nell'innalzamento della croce non soltanto quell'innalzamento fisico di gesù sul patibolo tanto il modo in cui gesù viene innalzato alla gloria del padre quindi una passione gloriosa quella di cristo la scorsa puntata abbiamo parlato di amore reciproco e questo ce lo ricorda anche la preghiera universale durante la liturgia della parola al termine della lettura ti chiederei di parlare di questo momento di partecipazione attiva del significato del pregare gli uni per gli altri e di farlo proprio in modo universale mettendo in luce questo aspetto la preghiera universale non è uno specifico del venerdì santo perché poi nel corso dei secoli è stata riproposta ad ogni celebrazione eucaristica specialmente la domenica quella che noi chiamiamo preghiera dei fedeli in realtà è la preghiera universale in cui la comunità cristiana alla luce della parola ascoltata si fa carico di tutta quella preghiera di intercessione nei confronti delle varie componenti della comunità ecclesiale e della comunità umana ma quella del venerdì santo è un unicum per il fatto che essa mantiene ancora proprio liturgicamente parlando la forma più antica cioè il fatto che un diacono o un ministro propone all'assemblea le intenzioni di preghiera l'assemblea prega in silenzio per qualche istante dopodiché il sacerdote o lui che presiede la liturgia innalza al padre quella preghiera attraverso un'orazione e il popolo risponde a questa orazione con il suo amen ad oggi la preghiera universale contiene dieci intenzioni di preghiera la chiamiamo preghiera universale perché la chiesa attraverso queste dieci intenzioni di preghiera guarda a tre realtà ben precise guarda alla chiesa intera e quindi guarda alla comunità dei fedeli dai pastori ai laici fino ai catecumeni cioè a quei uomini e donne che hanno ricevuto l'annunzio di cristo e si preparano a ricevere i sacramenti nella notte della veglia pasquale l'altro aspetto che evidenzia la preghiera universale è dato da quattro intenzioni che si riferiscono a coloro che credono in cristo quindi all'unità dei cristiani e che credono in dio agli ebrei e per coloro che non credono infine le ultime due intenzioni sono destinate a intercedere per la comunità civile e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà specialmente quanti vivono un tempo di dura prova perché l'importanza di questa preghiera in questa liturgia il sacrificio di cristo sulla croce è forse quell'atto di offerta al padre che gesù ha compiuto in maniera più piena noi attraverso il sacrificio della croce siamo abilitati una volta per sempre come dice la lettera agli ebrei ad entrare al cospetto di dio grazie a gesù e proprio guardando e celebrando la passione di cristo la sua morte in croce in questo giorno qual è il momento migliore per intercedere per tutta la chiesa e per tutta l'umanità proprio alla luce del sacrificio di cristo sulla croce la croce è al centro di questo giorno cosa significa dunque in questo giorno interrogarci sul nostro stare presso la croce sulla nostra contemplazione intima della croce l'adorazione della croce è evidentemente uno dei momenti più caratteristici di questa liturgia mette al centro la croce di cristo come strumento di salvezza le parole con cui la croce viene presentata all'assemblea che sta celebrando sono semplici ma incisive l'assemblea è invitata ad adorare quella croce e quella croce viene definita il legno al quale cristo fu appeso lui che è il salvatore del mondo la croce allora è il segno che ci ricorda la nostra salvezza noi quel giorno la contempliamo la adoriamo perché dopo l'eucarestia noi adoriamo la croce come vessillo di salvezza come strumento di salvezza quella croce che è diventata strumento di salvezza perché vi è salito sopra cristo quella croce diventa poi il paradigma della nostra vita in qualche modo perché il fedele che contempla la croce che adora la croce non può come già dicevamo in precedenza per gli altri riti della settimana santa non può rimanere ad uno stato soltanto emotivo perché la suggestione in quel giorno è tanta la celebrazione con i suoi segni i suoi canti le sue parole coinvolge la persona a 360 gradi anche l'aspetto più emotivo della persona anche lì la contemplazione ci porta necessariamente a fare nostra la croce nella vita di tutti i giorni tant'è che il segno della croce è il segno che più frequentemente noi facciamo durante le nostre giornate ma non è un segno semplicemente di benedizione ma è un segno che coinvolge tutta la nostra vita un grande studioso liturgista filosofo romano guardini parla del segno della croce che i cristiani sono chiamati a imparare a fare bene perché il segno che coinvolge tutta la nostra vita infatti questo personaggio guardini ci dice quando fa il segno della croce fallo bene fallo con calma fallo con tutta la tua persona fatti avvolgere dalla croce perché proprio da quella croce a noi è giunta la salvezza la croce diventa il motivo la causa della nostra vita del nostro essere in vita e del nostro ricevere la vita in pienezza e appena detto la croce diventa il motivo della nostra vita contemplando il sacrificio di Gesù per la nostra salvezza dovremmo comprendere realmente questo gesto come un gesto che porta un messaggio di speranza e di letizia e può riuscire anche a trasmettere agli altri questo messaggio di speranza e di letizia cosa vuol dire quindi comprendere realmente il valore di questo gesto? sembra un controsenso parlare di speranza e gioia nel giorno in cui ricordiamo e riviviamo la passione del Signore in realtà noi nel guardare la croce non guardiamo soltanto a questo legno come il legno in cui Cristo è morto quindi il motivo della sofferenza di Cristo ma noi contempliamo la croce come croce gloriosa anche mentre i fedeli si accostano a adorare la croce a baciare la croce e i canti che ci propone il messale per questo momento uno degli inni più belli o croce gloriosa che cantano la croce appunto gloriosa come albero da cui a noi discende la salvezza questa croce che diventa un legno addirittura dolce per il Signore perché attraverso questo legno, questo patibolo giunge a noi la vita e la salvezza perché la croce è segno di speranza e di gioia? perché noi sappiamo che è un elemento centrale della nostra fede sì, la croce non viene rimossa alla nostra vista in qualche modo ma una volta che Gesù risorge quella croce assume un significato diverso come dicevamo prima non più solamente patibolo di sofferenza quanto albero da cui riceviamo la vita questo è il motivo della speranza e della gioia e noi sappiamo che da quella croce per tutti gli uomini si ha la vita tanto che alla fine della celebrazione della passione del Signore viene benedetto il popolo che ha celebrato questa passione e la benedizione è molto significativa perché il sacerdote invocandola dice che questo popolo ha celebrato la morte del Figlio di Dio nella speranza di risorgere con Lui quindi per questo noi guardiamo alla croce con speranza e gioia perché sappiamo che contemplandola facendola nostra nella vita di tutti i giorni noi sappiamo, abbiamo la certezza di risorgere con Cristo e di ricevere la vita piena grazie Mario per essere stato ancora una volta con noi e averci aiutato in questa riflessione dedicata al Venerdì Santo grazie a te Denise saluto e ringrazio a tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito a presto Denise Arceri avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea un programma della redazione di Radio Caris in Blu Ragusa Grazie a tutti i radioscoltatori Grazie a tutti i radioscoltatori